Si terrà domani sera, giovedì 5 luglio, alle ore 20, presso l'area spettacoli dell'Inora Village, l'edizione 2018 dei Volley Awards. Durante l'evento saranno premiate le società di pallavolo dilettantistiche della provincia di Salerno, che si sono distinte nel corso dell'ultima stagione agonistica. La manifestazione, promossa dal Comitato Territoriale di Salerno della FIPAV, gode del patrocinio del comune di Capaccio Pestum e vede la collaborazione dell'ASD Polisportiva Pestum. Saranno presenti all'evento l'assessore allo sport del comune di Capaccio Pestum, Franco Sica, il presidente della FIPAV Campania Ernesto Boccia, il presidente provinciale Massimo Pessolano, il consigliere federale Guido Pasciari e la delegata CONI Salerno, Paola Berardino. Nel corso della serata saranno assegnati riconoscimenti e premi speciali per le collaborazioni con il Comitato Territoriale FIPAV Salerno.